Me lo immagino rilassato spero, senza troppa ansia, voglio solo salire sul palco e cantare la mia canzone e spero di stare abbastanza spensierato e di vivermela bene come quando canto nelle altre circostanze diciamo più vicine a me, questa è una cosa nuova per me, però sono anche curioso di vedere come reagisce il mio cervello. La canzone sono io al 100%, quindi penso per chi mi segue da anni si troverà nella mia canzone poi spero di dare quella cosa in più con l'interpretazione, cercherò di emozionarmi e di trasmettere questa emozione al pubblico sia a casa ma anche, il mio sogno è che quelli davanti, anche tipo il sindaco, Alba Parietti, si mettono a piangere.